Buongiorno a tutti voi e bentrovati con il Tg del mattino di TRG, 20 minuti circa. Vediamo insieme le principali notizie dall'Umbria, quelle di oggi, giovedì 28 dicembre. Allora, con il Corriere in apertura si parla di Corciano, il viaggio del quotidiano nel comune più giovane. Investire su servizi fa aumentare gli abitanti, queste le parole del primo cittadino, perché Corciano vanta in tutta l'Umbria l'età più bassa, ovvero 43,6 anni, e vede però crescere soprattutto i residenti. E' peraltro un borgo plastic free, si legge in costante aumento demografico, è il più giovane di tutta l'Umbria e a certificarlo è stato l'Istat, con il relativo censimento effettuato in Italia. Il dato ottenuto con due indagini annuali sul territorio rispetto al passato vede il nuovo modello di censimento basarsi sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati di fonte amministrativa trattati statisticamente. E' realizzato ogni anno, inserito all'interno del sistema integrato dei registri statistici, gestito proprio dall'Istat. Corciano si conferma da anni come comune, come detto più giovane. Questo è quanto si apprende con il Corriere dell'Umbria. Con il quotidiano in fotonotizia invece si parla dell'open day straordinario vaccinale della giornata di ieri, il vaccine day anti-covid. 1.600 sono i cittadini dell'Umbria che si sono presentati, i distretti sono stati aperti sia la mattina che il pomeriggio, somministrate oltre 1.600 dosi, 900 e passa solo nell'USL 1. E poi invece da terne in basso salvano vecchi libri dal macero, creano biblioteca sul ciclismo, appartenuti a Charlie sono stati recuperati dal centro sociale. Sulla sinistra invece la testimonianza di un uomo presente lungo la statale 77 Val di Chiente all'interno della galleria dove negli scorsi giorni si è verificato un incidente. Due ore e 16 minuti di autentico terrore per quest'uomo che ha detto in quella galleria sarei potuto morire. E poi invece da Perugia la cronaca ha saltata un'altra tabaccheria, ma vedremo che non è l'unico caso quello perugino. Anche l'apertura con la nazione, questo è il dorso regionale, in superredditi dei parlamentari con le dichiarazioni di senatori e deputati Umbri. Zaffini e Ascani sono più ricchi e c'è anche chi usa il bonus edilizio. In fotonotizia di nuovo, Covid, la lotta continua, numeri quintuplicati rispetto alla media giornaliera degli accessi con la soddisfazione della regione con l'assessore Coletto, dimostrato senso di responsabilità degli Umbri. Quasi 1.500 si sono presentati all'Open Day per fare il vaccino. A Ponte San Giovanni, carabiniere fuori servizio, insegue ferma una ladra. A Gubbio poche risorse, il sindaco scrive, tra gli altri, anche al presidente della Repubblica Mattarella. E poi in zona Terni Nord, tanti furti nelle abitazioni, al tramonto e allarme. Ecco, questo dei furti sia negli appartamenti, sia alle attività commerciali, che è un problema presente in tutta l'Umbria e un fenomeno che sta destando sempre più preoccupazione nella cittadinanza. Con il messaggero invece per 50.000 anziani, feste da soli, tra Natale e Epifania, mobilitati volontari dell'Auser per aiutare chi non ha famiglia, le storie di chi deve arrangiarsi e dice risparmio sulla spesa per il regalo ai nipotini. Da Perugia scontri fra oltrà, dai video, i volti dei violenti. Dalla Romagna l'ipotesi di una rissa che era già pianificata. A Terni terrorizza due cassiere con un'accetta. In seguito dai passanti riesce a fuggire, rapine in un negozio di Burgobovio. E poi in fotonotizia, sentieri senza divieti, elite sulla norma salvacacciatore, per quanto riguarda i veicoli a motore liberi su colline e monti, ci sono dei cambiamenti. E di nuovo il vaccino anti-Covid in 1600 all'Open Day. L'assessore Coletto, ottimisti per i prossimi appuntamenti. Uno sguardo più da vicino alle notizie dall'Umbria. Torniamo alle pagine della Nazione. In apertura le storie della cronaca per i furti e emergenza continua. Un carabiniere fuori servizio a Perugia, più nel dettaglio a Ponte San Giovanni, ha sventato il colpo in un negozio. Il militare ha sentito le urla della proprietaria che ha chiesto aiuto, ha inseguito e dunque è riuscito a bloccare la ladra. Spunta anche il mercato nero, dove spesso viene rivenduta la refurtiva. Nel mirino i supermercati sono tra i più colpiti da chi trafuga soprattutto superalcolici. Ma leggeremo nel corso di questa rassegna stampa tante altre notizie che hanno a fare proprio con questo argomento. E sentiremo proprio anche un servizio a riguardo. E poi il caso Suarez si riparte il 14 febbraio per quanto riguarda il processo del cosiddetto esame farsa all'Università per Stranieri. E a proposito di processi va avanti anche con Corsopoli, con gli ultimi testimoni. Nuove udienze si terranno a gennaio con il processo che in generale dovrebbe concludersi in primavera. La battaglia contro il Covid. I 1500 vanno al vaccino dei numeri qui intuplicati in un giorno. Come detto, la soddisfazione della Regione rispetto alla media di 300 ogni 24 ore. L'iniziativa di ieri ha riscosso un significativo successo. E poi i fronti per i fatti del giorno. Invece i parlamentari umbri e i superredditi dei politici. C'è chi usa il bonus 110. I deputati e senatori, non tutti, si legge, hanno depositato le dichiarazioni del fisco. Alcuni, dopo averlo criticato, hanno usato il maxisconto fiscale per rifare casa nella grafica. Le dichiarazioni dei redditi del 2023 di deputati e parlamentari umbri. Tra senatori e deputati, tutti tranne una, hanno alle spalle almeno una legislatura. C'è chi però ne ha ben quattro. Stamattina la presentazione in Regione a Perugia di Umbria Green Holidays, il progetto per il turismo sostenibile. Invece iniziano le demolizioni a Ponte San Giovanni per l'ex palazzetti Margaritelli. Si comincia oggi con i ponteggi. Sempre a Perugia, l'Umbria che va in auto. Mancano infrastrutture. C'è una indagine. E le reazioni a questa indagine. Non ci sono piste e marciapiedi. Questo viene evidenziato in questo report. E poi ancora dal capoluogo, biblioteche, si volta pagina, l'Augusta riapre le porte. La città può contare su nove strutture dislocate tra il centro e la periferia. Il boom degli arconi è divenuti ormai un luogo di approdo e di accoglienza. La struttura invece di via Pennacchi non sarà venduta. Si parla di villa urbani. Ci sono investimenti per l'edificio e la richiesta. La palazzina va consolidata. A Ponte San Giovanni invece funziona il nuovo McDonald's. Nel locale lavorano 60 giovani. quartiere Pallotta, il bocciodromo è stato riqualificato. Uno sguardo alle notizie dalle città. Iniziamo con le pagine del Corriere dell'Umbria a Perugia. Ecco, lo dicevamo poco fa. Si parla di furti e rapine in centro, ma anche nelle periferie cittadine. Dal capoluogo una rapina, più nel dettaglio, in una tabaccheria sanzisto. Con la titolare che racconta, era alto, straniero, col volto travisato. Ho avuto paura perché nei confronti della titolare quest'uomo le avrebbe puntato un coltello. Le immagini delle telecamere, di videosorveglianza della tabaccheria hanno ripreso tutta la rapina. Queste scene di puro terrore per questa titolare. È una scena durata oltre due minuti. e ovviamente le immagini sono al vaglio degli inquirenti per le relative indagini. A Ponte San Giovanni, di nuovo la notizia. Carabiniere in ferie arresta una ladra fuggita dopo il furto. La donna aveva rubato dei vestiti. Sulla questione invece scontri tra tifosi, tra Perugia e Cesena in via Cortonese, prosegue l'indagine della Digos. Andiamo ancora avanti, ma restiamo sempre a Perugia. con il Corriere dell'Umbria è stato raso al suolo, rifugio di clandestini e villananni, demolita dopo 30 anni di polemiche. Per gli ex palazzetti margaritelli invece si avvicina l'inizio dei lavori. Ancora da Perugia alle biblioteche da record per gli arconi ci sono 80.000 visitatori. Dalle iniziative del Natale, questo commento da parte dei commercianti. I perugini spendono di più. Con le feste infatti si sono riempiti i negozi della città, c'è una grande richiesta per cibo e gioielli e poi l'abbigliamento che è un evergreen. Ancora sempre a Perugia, aree verdi gestite da privati scatta la proroga di tre anni. Il Comune di Perugia ha deciso di proseguire negli affidamenti a proloquo e associazioni cittadine. A Corciano pubblica illuminazione sono pronti, 47 punti luce, altri 23 sono in arrivo. A Castiglione del Lago un palo blocca un'azienda agricola, infatti la situazione è tale ormai da mesi. Da novembre il pilone della linea telefonica è caduto e da allora la struttura è rimasta isolata. Ancora a Castiglione del Lago la segnalazione, materassi abbandonati in un campo a Cozzano. A Panicali invece ecco la corda del San Sebastiano. L'opera è stata fatta con il macramè, oggi l'installazione al Museo del Tull. A Magione la gettidice, mensa e trasporto, tariffe invariate dal 2013. Il vice sindaco ha commentato l'approvazione del bilancio di previsione. Ad Assisi i donatori di sangue non vanno in vacanza. Una giornata straordinaria organizzata dalla locale sezione di Avis ha visto la partecipazione di 25 persone. A Bastia Umbra invece la cronaca aggredita da uno sconosciuto. Una signora la sera della vigilia di Natale è stata offesa e spinta a terra da un uomo nell'area sgambatore Cani. Sempre ad Assisi anche il report di sostenibilità consegnati a Papa Francesco. Due progetti realizzati nella città serafica che hanno come fonte di ispirazione la lettera enciclica Laudato Si. A Todi invece la città immostra a Bruxelles le bellezze del comune in esposizione al Parlamento europeo dall'8 al 14 gennaio su iniziativa dell'onorevole Peppucci. A Pantalla morte meccanico 53enne sono indagati tre medici e di nuovo da Todi cambiando argomento il Partito Democratico boccia il bilancio e dice la città è sempre più povera. A Città di Castello invece rivive l'affresco di Signorelli. L'opera è stata videoproiettata sulla torre civica. È un'opera andata distrutta che rappresenta la Vergine con il Bambino e i Santi. Sempre da Città di Castello Giuseppe Sabbioni nel diario di una vita tra lavoro e famiglia, il fondatore delle grafiche di Trestina ha presentato il suo libro. Al rione di San Giacomo invece la trasformazione perché lo stesso rione si è trasformato nell'antica Bethlehem con il presepe vivente che ha caratterizzato le vie del centro. Rivalta nazionale per i centenari tifernati, protagonisti in tv alla vita in diretta. Questo dopo il video degli auguri promosso dall'amministrazione comunale con i messaggi per le festività che ha visto proprio per protagonisti gli ultracentenari del comune tifernate. Andiamo a Dumbertide dove invece si parla di una donazione, un tavolo da ping pong all'associazione Arcobaleno con l'iniziativa che è stata resa possibile grazie al comune attraverso il 5x1000. Sempre a Dumbertide, a Capodanno in piazza è stato presentato il programma con la band Nevrotica, a San Giustino invece il presepe vivente di Celalba ha visto arrivare 1500 visitatori. A Gubbio colpo da 10.000 euro all'edicola, rubati dal negozio di San Pietro Grattevinci, valori bollati, sigarette e contanti, sono stati immortalati dalle telecamere due malviventi con passamontagna in testa e arnesi per lo scasso. E' anche a Gubbio un escalation di furti, l'ipotesi è quella di una banda unica, nelle ultime settimane i malviventi infatti hanno preso di mira non solo esercizi commerciali ma anche abitazioni private. Su questo è intervenuto il sindaco della città, Filippo Stirati, che ha detto per la sicurezza facciamo quello che ci compete, annunciando che a breve ci sarà in città il prefetto con il quale farà il punto della situazione. A Gualdo Tadino superate le mille donazioni, fa il bilancio l'Avis comunale che ha commentato i dati dei primi 11 mesi in occasione della tradizionale festa di fine anno. Sempre a Gualdo Tadino, Anderlini presente il suo ultimo libro su Franco e poi la mostra fotografica contro il body shaming e gli stereotipi che è visitabile fino al 28 di gennaio al centro culturale Casa Cagliani. A Foligno fa le lemosine e viene scippata un'anziana, si vede strappare di mano il portafoglio proprio nel momento in cui stava offrendo monete al ladro. Il lutto dalla città della Quintana, la città piange infatti la scomparsa del professor Marco Paolo Tucci. Agli Orti Orfini l'obiettivo è quello della riqualificazione e l'idea di destinare l'area alla ristorazione e però non piace all'associazione città accessibili. Il concerto di Capodanno anche a Foligno, i biglietti sono in distribuzione da oggi, l'appuntamento è per lunedì alle 17.30. Ancora a Postel, 36 lavoratori in bili con l'allarme dei sindacati, nessun investimento per i due siti strategici dell'ente. Servono risposte, queste proprio le richieste. A Bevagna, nel presepe medievale, gli abiti originali del film di Zeffirelli. Domani la rappresentazione con i costumi di Fratello Sole e Sorella Luna di oltre 50 anni fa. A Spoleto, Ponte Passerella, tempi rapidi, riapriranno entro la metà del 2024, lo ha assicurato il sindaco durante la conferenza di fine anno. E nasce anche l'ufficio Eventi. Una follia a ridurre l'attività chirurgica, scende in campo l'associazione San Matteo in merito a quello che definiscono taglio dei servizi sanitari locali che scatena inquietanti interrogativi. A Cerreto invece rivivono mestieri e antiche professioni grazie ai cento figuranti del presepe vivente. A Norcia, pericoli lungo le strade, saranno abbattuti 42 alberi. E sempre da Norcia, saluto di benvenuto del Comune, i 25 nuovi nati del 2023. Andiamo ancora avanti con il Corriere dell'Umbria e ci spostiamo a Terni. Niente ortofrutta fuori dai locali, scatta l'ordinanza fino a maggio. Il sindaco Bandecchi firma il provvedimento che aveva già attivato il luglio dopo la sua elezione. In caso di inosservanza è prevista la chiusura dell'attività con uno stop fino a massimo sei mesi. Macchina comunale via alla terza riorganizzazione. Le direzioni salgono a 12. Dal primo gennaio le risorse umane passano ad Interim. A Grazia, Marcucci. Sempre da Terni, rapina con accetta a Borgobovio. Colpo nel negozio Acqua e Sapone. Un uomo con il passamontagna si è fatto consegnare l'incasso e ora indaga la polizia sull'accaduto. Banchino a largo Villa Glory per la raccolta firme del Movimento 5 Stelle. Legge sul salario minimo da oggi fino a sabato in iniziativa. E poi invece la magnetoterapia da portare in tasca. Un'azienda ternana ha brevettato un apparecchio medico unico al mondo. Ha vinto un premio di 24 centimetri. Cura l'ipertrofia prostatica e le infiammazioni muscolari. A Borgorivo, libri e cimeli di Charlie. Il centro sociale li salva dal macero. Per quanto riguarda invece F-Medica, Stefano Stellanti è il nuovo consiglieri di amministrazione. Prestigioso incarico per l'ex amministratore unico di Terni Reti. Il segretario del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Terni. A Narni, barriere e lavori entro tre mesi. Sul Ponte d'Augusto, l'ultimo episodio di cronaca ha riportato l'urgenza sul problema della sicurezza. Sempre a Narni, tre giorni per l'epifania saranno tutti dedicati ai bambini. Ad Acquasparta, invece, strada con le maggio. Sia la restyling, lo annuncia il Comune, in arrivo 420 mila euro di fondi PSR. Ad Orvieto, rivoluzione per Umbria Jazz. Il mercato trasloca le scale mobili attive 24 ore su 24. Scatta fino al 1 gennaio l'ordinanza del Comune, ampliati gli orari di apertura degli ascensori e degli altri impianti di risalita. Sempre a Dorvieto, pranzo in Caritas con il Vescovo contro ogni disuguaglianza a questa iniziativa. E poi l'Università delle Tre Età che visita il presepe nel Pozzo della Cava. Vediamo le notizie anche con il messaggero. A Perugia, di nuovo, biblioteca e l'Augusta diventa anche museo. E per l'ex Margaritelli parte l'operazione rilancio. In Piazza Morlac, invece, i residenti 007 contro i padroni della sosta selvaggia. Scontri ultra dai video, i volti dei violenti, non solo i filmati della polizia al setaccio, anche le immagini registrate dagli smartphone e finite sul web. La storia a Ponte San Giovanni, carabiniere fuori servizio, blocca ladra in fuga. E poi la protesta, petardi per le strade e fra le case. Non è ancora il 31, qualcuno li fermi. Questa è proprio la richiesta. Per l'ambiente e la gestione dei parchi, le associazioni protagoniste a Perugia. Ad Umbertide, invece, caccia i vandali che hanno imbrattato le mura del centro con scritte offese nei confronti del sindaco e della vice sindaco della città. In campo anche i carabinieri del nucleo tutela patrimonio indagano che indagano proprio sul raid della vigilia di Natale. Anche la polizia locale analizza le immagini. Dunque una doppia indagine. Ad Assisi l'appello del vescovo Sorrentino, Casa Felice, questo progetto lanciato durante la messa della notte di Natale. A Guadotadino, il professore del CAI, Salvatore Pacifico, compie 100 anni. A Gubbio, di nuovo, raid dei ladri in una tabaccheria del centro. A Todi, la consolazione in mostra al Parlamento europeo nel mese di gennaio. Andiamo avanti e siamo a Foligno. Il carnevale scaldaggia i motori, torna anche l'edizione estiva. Depositi Postel, lavoratori e sindacati chiedono stabilità. A Spoleto, invece, Passerella sul Tessino sarà pronta tra sei mesi, l'annuncio del sindaco. La svolta poi per l'ex caserma Minervio, sempre per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Iniziativa musei chiusi. La proposta garantiscono l'apertura ai consiglieri e gli assessori. Sulla polemica scoppiata Natale è intervenuto Grifoni con una mozione. A Terni, indiano, pestato a sangue, scatta la caccia al branco. I militari stanno cercando altre persone, tre persone indicate dalla vittima come responsabili. Al Palaterni si sblocca la gestione in agenda già a due eventi mondiali. Dopo la scherma, le arti marziali con due appuntamenti. Tra marzo e aprile spunta anche un convegno nazionale. La visita, Carlini e Sciorpa, il parto dell'arte con la fondazione Carit. Ancora andiamo a Terni, rompe con l'accetta e terrorizza le cassiere. La rapina nel negozio acqua e sapone, in azione bandito con il passamontagna. Scuola e accorpamenti, il no dei sindaci è in coro. Si tenga conto della peculiarità dei nostri territori. Dunque si parla ancora una volta di una questione che è un tema caldo, ovvero del dimensionamento scolastico che interessa diverse dirigenze delle scuole dell'Umbria. A Cesi il borgo si ripopola, contributi per un milione tra ristrutturazioni e nuove residenze si sbloccano i primi interventi in agenda. A Dorvieto invece si alza il sipario, Sumbria jazz, i biglietti già esauriti per i primi concerti. Alcuni titoli anche con la Nazione. Dalla provincia di Perugia consiglieri di parità, candidature aperte, come è possibile fare domanda. Tornano le bartocciate sempre a Perugia e poi dona il tuo giocattolo. Ha fatto centro questa iniziativa al centro commerciale Collestrada che ha visto per protagonisti anche i Lions. L'Uduca dice che è un'iniziativa che abitua al rispetto. A Città della Pieve arriva il finanziamento, ottenuti 700 mila euro per rifare il Camponero. A Castiglione del Lago c'è una mamma per amica, un progetto per le donne in gravidanza. A Corciano attivate nuove linee di pubblica illuminazione, a Panicale open day innovativo all'infanzia di Tavernelle. Ad Assisi passione, moto e solidarietà, un anno con gli svalvolati hanno donato oltre 5 mila euro. A Todi la città sarà protagonista al Parlamento europeo di Bruxelles. Di nuovo ad Assisi il pranzo dell'amicizia, sono stati distribuiti oltre 120 pasti. A Bastia Umbra invece l'iniziativa Benvenuto Crispoldi, celebrazioni di apertura nella sala della consulta. A Gubbio la lettera al presidente Mattarella del sindaco Stirati, in cui ha scritto Subiamo un'ingiustizia storica, poche risorse per un territorio vasto, stabilire un correttivo economico adeguato. Questa è la richiesta. Sempre la Gubbio è stata svaligiata all'edicola di San Pietro. A Nocera Umbra, emergenza neve, arriva il via libera della Giunta, c'è il piano per evitare i disagi e garantire la sicurezza. A Guadotadino rinnovata la numerazione dei sentieri della montagna. E poi per la gestione del canile rifugio è stata affidata alla ESA, proroga fino al 31 dicembre del 2028. A Città di Castello, sulla torre il signorelli perduto, è stato videoproiettato l'affresco che non c'è più. Sempre a Città di Castello, il Capodanno in piazza, la musica partirà già dalle ore 18. A Celalba, invece di San Giustino, l'incanto del presepe in un giorno, oltre 1500 visitatori. A Dumberti, le antiche mura imbrattate, sono scattate le denunce, indagini anche con la videosorveglianza, mentre a Montone, dal pop alla cover di Vasco, c'è la supernotte di Capodanno con gli eventi in piazza. A Foligno, vertenza nei due siti Umbri di Postel, basta appalti dati all'esterno. Sempre a Foligno, la festa della scienza, il Mediterraneo sarà il centro della manifestazione. E poi l'ultimo saluto al professor Marco Paolo Tucci, città in lutto. A Spoleto, la giunta comunale gonfia il petto, progetti avviati e contenziosi chiusi. A Foligno, invece per la cronaca, fiamme sulla superstrada, galleria, rischio sequestro, ipotesi al vaglio della procura di Macerata. A Terni, raffica di furti nelle abitazioni, colpita la zona nord della città, una serie di colpi nel tardo pomeriggio. Sempre a Terni, sviluppo Umbria e fondazione Carit, stringono un patto per la crescita del territorio. A Dorvieto, invece, parcheggi automatizzati si cambia, la gestione sarà affidata ai privati. E sempre a Dorvieto, fino al 6 gennaio, Hollis King, in mostra le foto dell'artista statunitense. Vediamo rapidamente anche alcuni titoli dello sport. Calcio di Serie C, apertura con la Nazione. Perugia-Santoro, stavolta, sarà addio. A gennaio, infatti, le strade tra il Grifo e il giocatore si separeranno. Il giocatore vuole andare, il Grifo non lo tratterrà dopo le ultime prestazioni. Ascoli, Suttirol, Cosenza e Pisa hanno chiesto notizie. Sempre in Serie C, Gubbio, entusiasmo post-vittoria, doppia seduta in vista del Pineto. Il recupero con la Re Canatese potrebbe giocarsi il 10 gennaio, con il Comune che assicura lavori per sistemare lo stadio Barbetti. Per il grande volley, Sir, Giannelli dice dovevamo chiuderla. Superlega dopo il K.O. al Palabarton con Milano. Giannelli ha fatto il punto della situazione. Per il calcio, il mercato dei dilettanti. Lo Spoleto è scatenato e vede un tris di ingaggi. Calcio di Serie B, Ternana, la svolta di Breda. Dopo l'inferno, la speranza. Le ferie terminano l'andata in posizione play-out. Sorensen dice ma ora siamo in corsa. Per il calcio eccellenza, ACF Foligno al comando, Petterini commenta avanti così. E per il volley di Serie A3 maschile, la Herma Gruppo San Giustino si riscatta in casa. La vittoria sul Fano vale il secondo posto. Chiudiamo questa prima parte di Rassegna Stampa, prima pagina, ma ovviamente torniamo con tutte le notizie approfondite anche con i servizi subito dopo la pubblicità nella nostra più tradizionale Rassegna Stampa.